Allora, una cosa, una cosa, che non vuoi vedere? Come? Tantane le persone che iniziano a fare scuole, ma che si vanno a fare ragazzo, ma iniziando, senza guardare così. E' un po' di meno. E' un po' di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più. E' un po' di meno. 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 e più di solo forte magari una volta così in tazzo non devi scocchiare l'altro e guarda lì eh che bravo chi vede che era a studio che era lì e c'era tutti la notte Luca non ho neanche lanciato il pallone Luca non ho lanciato il pallone non ho lanciato il pallone basta non ho la volta che fai il fischio no no lanciato il pallone dai lì in cursa e batta dai il ca sono sotto il pallone il pallone c'è comunque passato prima salta i tuoi colpiti non mette salta i tuoi colpiti perché sono una profita di meno grazie e l'imbraccio saltate in avanti la coordinazione con la moto del cielo salta dritto il vestito doveva già essere largo non saltare in lungo lì vuol stare le spalle in volta la rimpiazza dritta e poi colpisce dai non puoi seguire tutti i ronchietti questa cosa è vergognosa prendi il braccio non saltare in lungo non posso fare il risultato è 4 guardie di vicenda io capisco che non avendo avuto un'attività fisica costante probabilmente è parola di lotterti il braccio che si pieghi sul pallone ma ti assicuro che fisicamente è impossibile solo a Simone tu non sei Simone c'è questa fortuna sfruttala Luis se stai nel braccio così è perfetto perché non hai mai partito perché non hai mai partito porca bravo perché la stai imparata con la testa è questo colpendo le crescente tivo e tieni la schiarritta invece ti farei più dentro stai saltando in lungo perché non hai mai partito non so è dretto colpisco bravo bravo ora ci siamo bravo Luis ora ci siamo bravo ma tu hai un partito c'è da andare veloce andiamo veloce non vuol dire farti una fila lancia vuol dire veloce se tu vuoi piano prima che io lanci vai rimanere più che piano e male non usare il pisello però ti rifanno il bravo ti hai messo in città di zona oggi in Africa non lascerai la mano è lentissimo ma è il culo non c'è la ricombinazione che ti permettono di girare a rontare le spalle e coordinare il colpisco salti dritta e spingi il cuoio non c'è la ricombinazione non c'è la ricombinazione è il tuo cento per cento perché? rinconza e colpisco non da qui che voluto salta meglio dai aspetta un po' di fine non c'entra niente non c'è la ricombinazione non c'è la ricombinazione e poi colpisci non verso l'alto con la schiena si è un ottimo di fare questo tu stai facendo questo non fare mai che ci sono persone non chiede le braccia non ti preoccupare si è accompagnato se li lasci sono a far pagare tu devi essere veloce non devi partire essere veloce ti muovi il campo no non è più il campo se non riesce a colpire un appartamento ci si è stato fatto da per parte adesso ci arriverò prima no se ti è così ma ancora bravo bravo ma bravo ma questo questo va già meglio questo va già meglio questo va già meglio hai continuato a farlo non serve un cazzo non serve se vuoi fare lo schifo tiri nella rete e piano non sai che lo dico ne hai fai questo questo ce l'ha fatto ambra a farlo che è un medico non cazzo ok Simone Pilastro può riuscirci anche lui se non sai ingabitare la lunga non lo fare nel certo modo è fallito o continua a farlo però è tirato in campo la differenza sta lì bravo ma non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo non cazzo il tuo pallone mira il campo oh questo ti è un altro più senza saltato ieri male 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 che l'ho ripreso perché se no non mi crede nessuno